Un caro saluto a tutti quanti, in questo video parliamo di questa app Cortana in Windows come app autonoma e deprecata Salutiamo quindi l'intelligenza artificiale, probabilmente è quella con la voce migliore in assoluto questo è fuori da ogni dubbio, ma sicuramente è quella più stupida in senso assoluto ovviamente quando si parla di intelligenza artificiale molti hanno un po' di confusione nel senso che si pensa solamente a Siri piuttosto che all'intelligenza artificiale di Google eccetera eccetera però essenzialmente noi abbiamo tonnellate di intelligenze artificiali abbiamo ChatGPT, anche questa l'intelligenza artificiale delle polemiche ma ne abbiamo un miliardo di altre che hanno vari scopi, varie funzioni sulla base del motivo per il quale sono state pensate e create devo dire che Cortana è stata utile secondo me nella fase di racconto delle barzellette ovviamente le barzellette di Cortana erano effettivamente le migliori dobbiamo dire scherzi a parte che comunque in tanti stanno tornando indietro abbiamo avuto Amazon con tutta quella parte di Alexa che è costata alla compagnia sta costando alla compagnia miliardi e non sta portando praticamente benefici di nessun tipo dal punto di vista economico ma sostenerla costa comunque tantissimo Microsoft tirere mi in barca perché comunque non ha più nessuna utilità mentre invece forse magari non sapete che Bing così come Skype che appunto è ancora di Microsoft integrano ChatGPT in diversi livelli, in diversi modi anche per alcune soluzioni ad alcune problematiche salutiamo soprattutto il mese di agosto quindi con questo video che vedrete ufficialmente il primo di settembre con appunto l'addio primo o secondo di settembre in base a quando uscirà però con l'addio ufficiale di Cortana che appunto si porta via perché dal mese di agosto ufficialmente questa cosa accade si porta via tutto quello che aveva provato ad essere ricordiamo che Siri sul fronte Apple oltre ad avere un sistema intelligentissimo su iOS nel senso che potete dirle aprimi whatsapp ti detto un messaggio l'ho detta prende appuntamenti Siri è fantastica da questo punto di vista ma soprattutto su un sistema operativo come Mac avete il controllo complito complito ok di tutte le funzionalità del Mac e soprattutto se avete i processori dall'M1 in poi addirittura potete anche scaricare completamente la parte di controllo vocale delle applicazioni e farla girare direttamente da Mac cosa che sul sistema Intel non è abbastanza come dire strutturato per poterlo fare lo si può fare ma solamente e sempre costantemente collegati online ma questo è un capitolo a parte giusto perché alcuni insomma potrebbero essere interessati ad avere qualche specifica in più sulla fine di Cortana vi posso anche dire che Microsoft ufficialmente continuerà a sostenerla a supportarla in Outlook Mobile Teams Mobile e display di Microsoft Teams e sale di Microsoft Teams che francamente non so cosa voglia dire questa frase ma è ciò che Microsoft ufficialmente dice legato a Cortana quindi salutoni a lei probabilmente anche un po' più leggera lo spazio che lascia quindi lascia un sistema operativo leggermente più leggero e fatemi sapere se anche voi avete avuto esperienze con Cortana non buone o cattive ma semplicemente esperienze vi è capitato di sfruttarla ve ne frega nulla del suo addio o qualsiasi altro commento grazie a tutti ciao